La Svizzera non è più nella lista grigia dei paradisi fiscali. Lo ha deciso l'Unione Europea, escludendola dall'elenco che mette insieme tutti i paesi su cui vigilare in termini di materia fiscale. Nel 2017 vennero stilate due liste, una nera per i paesi non cooperativi in materia fiscale e una grigia con gli stati che avevano promesso di apportare alcune modifiche a livello fiscale. L'Unione Europea aveva rinfacciato in particolare alla Svizzera i cinque regimi fiscali federali e cantonali, ritenendoli una forma di concorrenza discriminatoria e distorsiva. Ma ora che Berna ha adottato una riforma fiscale, i ministri UE dell'Economia e delle Finanze, riuniti a Lussemburgo, hanno stabilito che rispetta tutti gli impegni in materia di cooperazione fiscale. Se la Svizzera esce da questa lista, per me è un successo. La migliore lista è quella più corta, ha commentato il commissario europeo agli affari economici e monetari Pier Moscovici, al suo ultimo consiglio Ecofin prima di lasciare il posto a Paolo Gentiloni. Oltre alla Svizzera vengono cancellati dalla lista anche Albania, Costa Rica, Mauricius e Serbia, che hanno messo in atto tutte le riforme necessarie per conformarsi ai principi di buon governo fiscale dell'Unione Europea. Inoltre, cancellati dalla lista nera, Emirati e Area Bioniti e Isole Marshall.